Amici buongiorno a tutti, se dovete organizzare il vostro prossimo viaggio e non l'avete ancora fatto sapete che siete proprio nel posto giusto perché in questa pagina vi voglio mostrare le prossime date per i prossimi tre mesi iniziando da agosto, settembre e ottobre quello che dovete fare è molto semplice, bisogna semplicemente scrollare in giù e troverete subito i viaggi di gruppo per la Moldavia abbiamo messo tutti lì aeroporti che hanno il volo diretto per Chisina e le date per i prossimi tre mesi qui ovviamente troverete anche qualcosina per il mese di luglio però vi potete più che altro concentrare per le date iniziando da agosto, settembre e ottobre come detto Milano Malpensa fino al mese di ottobre ovvero fino al 31 ottobre poi abbiamo Milano Bergamo sempre fino al mese di ottobre Roma Fiumicino, Bologna, da Bologna ci sono tantissime tratte da Venezia fino al 29 di ottobre poi abbiamo Parma, poi abbiamo Verona, abbiamo anche Londra perché sapete che i nostri pazienti non arrivano solo dall'Italia quindi ovviamente qui sulla pagina mettiamo anche le tratte che sono dagli altri aeroporti dell'Europa in questo caso Londra sempre fino al mese di ottobre Vienna sempre fino al mese di ottobre abbiamo Francoforte, abbiamo Bruxelles, abbiamo Varsavia, Dublin, Parigi, Basel Milkaus e questi sono gli aeroporti dall'Europa da dove arrivano i pazienti fino al mese di ottobre quindi se ci sono tra di voi anche pazienti che vogliono andare in Romania non vogliono andare oppure non possono venire in Moldavia ovviamente su questa pagina troverete anche dei viaggi per la Romania ad esempio qui proprio il primissimo aeroporto è quello d'Alghero sempre per tre mesi in avanti abbiamo luglio, abbiamo agosto, abbiamo settembre e abbiamo ottobre fino al 31 di ottobre abbiamo Milano-Malpensa abbiamo tantissime tratte da Bergamo col volo diretto per Bucharest abbiamo Roma-Fiumicino, Roma-Ciampino, Bologna Genova, Palermo, Pisa, Napoli, Perugia, Bari Torino Venezia e poi ovviamente anche per la Romania ci sono delle tratte degli aeroporti dell'Europa che in questo caso da Monaco, da Vienna, da Bruxelles, Tenerife, Stoccard, Amsterdam e Dublin quindi cosa dovete fare è molto semplice una volta che vi siete decisi con la data che volete scegliere che è quella che vi è più conveniente dovete semplicemente cliccare su Apri Chat Viaggi di Gruppo in questo caso vi collegate subito a noi e vi possiamo dare tutte le informazioni necessarie nel caso in cui avete qualche domanda ovviamente potete chiedere quante persone viaggiano ad esempio da Vienna il 24 settembre oppure da Venezia il 15 ottobre noi vi daremo risposte a tutte le vostre domande quello che dovete fare semplicemente è cliccare su Apri Chat Viaggi di Gruppo scegliere una data che è comoda per voi e noi dopo vi aiutiamo con l'organizzazione fate fretta quello che vi posso dire io è che sempre cerchiamo tre mesi tre mesi in anticipo di darvi tutte le tratte tutte le date per facilitare le vostre ricerche per non cercare di organizzare tutto all'ultimo poi ricordatevi che sempre ogni anno quando arriva l'autunno siamo sempre in full booking quindi le cliniche si riempiono velocemente perciò fate fretta scegliete le vostre date e poi noi vi aiutiamo con la vostra organizzazione un saluto a tutti e aspettiamo i vostri messaggi ciao